Cari amici di Metro Giuliaci, un saluto come sempre da Giuseppe De Vitis. Si cambia di nuovo, dopo l'anticiclone si defila un po', aria fredda sul suo bordo orientale che investirà un po' tutta la penisola italiana per la verità, anche se sarà piuttosto veloce. Quindi Italia sversata da venti freddi settentrionali in questo avvio di settimana, delle nevicate soprattutto nella prima parte della giornata sull'arco alpino, su zone di confine, ma sul resto del territorio al nord sereno, ma freddo e ventoso. Ancora qualche nuvola al mattino tra la Toscana, vedete le regioni centrali, zone interne, il Lazio, l'Abruzzo, marche un po' più meridionali, queste zone qualche fenomeno ma tende a migliorare con ampi rasserenamenti già dal pomeriggio, entro il pomeriggio sera e le nuvole e i rovesci di pioggia tenderanno a concentrarsi all'estremo sud tra la Campania, la Calabria, la Puglia dal pomeriggio, la Basilicata, qualche rovescio di pioggia sui settori più settentrionali della Sicilia nell'ultima parte della giornata e sulla Sardegna, ma pian pianino tendono i fenomeni a concentrarsi proprio sull'area ionica sul finire di giornata, con un crollo vertiginoso delle temperature nella seconda parte della giornata un po' dappertutto. Per il momento mi fermo qui cari amici, buon proseguimento di giornata e buon inizio di settimana, arrivederci!